ciao a tutti oggi sono al lago di viverone e vi farò vedere un bel giro che percorrerà tutta la serra d'ivrea ci vedrà praticamente attraversare tutta la serra d'ivrea partendo appunto qui dal lago di arrivare su alle pendici del mont barone su uno sviluppo di circa 20 chilometri alternando passaggi sul versante billese sul versante torinese io sono black devil e questo è il sentiere di black non ci sono più che sia ma in un'allia è un'allia si non si sa non è un'allia è un'allia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti